E' il capogruppo del PD in Consiglio regionale Silvio Palucci ad aver avuto l'incarico di creare Abruzzo Insieme, una coalizione più larga possibile di forze progressiste, democratiche e liste civiche che possa contrapporsi al centro-destra che rinnoverà la fiducia all'attuale governatore Marco Marsilio. Alle regionali di marzo 2004, Palucci è già a lavoro, si è già sentito con Camillo D'Alessandro e ci sarà anche un vertice con liste civiche, movimenti di sinistra, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e probabilmente anche azione. L'idea è quella di riunire tutte queste forze sotto Abruzzo Insieme che si costituirà in una seconda fase. Ma Palucci potrebbe fare anche il candidato presidente della regione Abruzzo. Lui dice che è presto per fare i nomi ma la disponibilità eventualmente c'è. Una coalizione politica e civica allo stesso tempo più ampia possibile per rendere contentibile il risultato ma soprattutto per spostare la posizione della regione Abruzzo sui grandi temi. Noi siamo contro l'autonomia differenziata che sulla sanità e anche altri settori davvero sarebbe un colpo di grazia per la nostra regione mentre Marsilio è a favore del governo Meloni che vuole fare questo. E inoltre portare avanti un progetto per l'Abruzzo che purtroppo rilanci una regione colpita dai gravi fallimenti di questo governo regionale. Dalla sanità alle infrastrutture, dalla sottrazione delle risorse a una forte mobilità passiva, alle liste d'attesa lunghissime, alla diminuzione delle prestazioni nel campo socio-sanitario. Questi sono assolutamente dei temi sui quali ribaltare quello che è stato il lavoro fatto purtroppo da Meloni e Marsilio in questi anni in regione Abruzzo. Da più parti dicono che sarà lei il candidato presidente da opporre a Marsilio, è così? È presto per dirlo ma intanto è una battaglia politica. Dall'altra parte c'è chi vuole l'autonomia differenziata, chi ha sottratto le risorse per la Roma Pescara, chi non ha dato una speranza e una voce per lo sviluppo di questa nostra regione. Abbiamo perso tantissimi giovani, nella fascia di età tra i 10 e i 49 anni quasi 50.000 sotto la gestione Marsilio. Con la presenza di Meloni, di larga parte del governo del centrodestra nazionale e di Marsilio non abbiamo raggiunto neanche un solo traguardo ed è stato un fallimento su tutta la linea. Attorno a questo dunque costruire una coalizione politica e civica in grado di ribaltare questa situazione. Comunque la sarebbe disponibile? Ma assolutamente sì, intanto perché viene dalla richiesta del Partito Democratico. Però quello che conta non è soltanto il parere del Partito Democratico ma appunto le forze civiche e politiche vogliono contribuire a ribaltare questa situazione.